alla prossima dai fagli vedere Johnny dai fagli lì dai fagli lì dai fagli mi spiro i bracci perché ti spiro i bracci perché ti spiro i bracci è tutto perché vedo che tu ti a vedere la cosa che sta a dire secondo me te la mangi te lo mangi poi c'è troppa gente che mi vuole speri che mi controlla vieni tranquillo vieni tranquillo vieni qua con il nodo oh già lì devi scendere fa male la spalla fa male la spalla è fatto bene e poi vediamo c'era più l'oro e poi vediamo c'era più l'oro c'era più lì 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 come si fa a spostare davanti prendo dietro eh sembra facile non devi bravo 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 non dubbi si devi arrivare bene e essere convito ne lo fai sì devi dire lo faccio lo faccio lo faccio lo faccio largo guardalo guarda che lo fa e non me lo fai certo che lo fa via via vai vedi basta sapere lo fa lo fa lo fa lo fa e allora Sì, che cazzo vedi qua? Io vedi un cazzo. Come mai ho fatto così? Spiegami. L'hai preso qua, proprio dove è più tondo e ti è scappata giù. Bravo, lì ti sta sulla moto. Allargala più che puoi qua e prendila più in là. Dopo la velocità, non ti da dagli perché sei piegato, però tutto accelerato. Spostamento. Spostamento. E! E! Non lo rube! Non si può pico'arco. Non si può pico'arco, non si può pico'arco. Non si può pico'arco. Non si può pico'arco. Vedi un sacco! Vedi un sacco! Sì, 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 sì. Ho tirato giù il sasto. Ancora più stretta. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì.